la posizione sta qui molto lontana da noi ok ho capito che morirò presto ho capito un anno e morirò qui in 62 e presto dovrei morire in teoria nel 63 mettiamo play e vabbè moriremo presto mi devo dirvi ah è guarito e quindi non c'è più il dying penso allora perché il nostro rete non era il nostro figlio perché era il figlio di un altro però ok we are safe dove sono i miei uomini ecco i li la verità sta qui la moravia li mi hanno conquistato ok la scorza e presto vogliamo fare magari con questi qua facciamo la stagione qui e poi andiamo a prendere la scorza e la capitale con questi mentre il figlio è in scandinavia 17.000 ok ok allora se la tene dividiamo ancora è la prima armata mi va a prendere quelli la prima armata dove sono questi di qua sono scomparsi i maledetti mentre la seconda continua a conquistare qui la tezza anzi tu sei venuto il lavoro ok bravo uomo tu vai a prendere questi di qua gli dai una bella lezione e lui c'è messo questo il panzone ma come si è messo questo va si è messo lì reddish scarso scarso ma com'è che ho fatto a scoprirmi ma io vedo anche le fazioni che in asteria non vedo le fazioni cosa è quella non c'è mio figlio che ripeto non è il mio erede non è il mio figlio però allora la prima cosa è questo dico militare bulgarian ok quello d'altro militare militare eh sì certo e tu lasci me poi ti trovi con quelli là non ti come più di tanto ok tu vai qui li troviamo con quelli là li troviamo? mi sa di no ecco i là trovati trovati ok tu vabbè salire guardate vinto la guerra ok arriviamo qui da Scozia andiamo a dargli una bella accoglienza salve sono il vostro nuovo imperatore anche se non sapete eh non mi morire tu mi raccomando prendi la capitale diplomazia andiamo con friendly con console ok tu hai fatto il tuo continua da conquistare questo ha fatto questo non ho qua se no non si guardano sono nemici ma non si guardano adesso mi ho bene non ho qualcosa non so insomma qui si hanno fatto il mio obiettivo è questo di qua giusto ne andiamo subito qui perché questo appunto è questa regione no questa di qua in realtà vabbè allora vabbiamo a prendere questa regione questa regione qui e poi mi vai a salire va bene voi siete qua mi state muovendo forse sta per l'ultimo regno che dovevo conquistare in effetti guardate questi di qua dove sono che voglio prendersi la moravia mi do fastidio a questi così che sono sti in effetti loro dai fastidio ok lui ha perso la guerra enforce demand e il savmi è già nostro quindi ci manca solo la scozia abbiamo molte regioni qui al nord ok ci manca solo la scozia che ha questa regione di qua io mi estrarei ancora qui un battimo questo ha questa regione di qua no via mare no abbiamo 1500 è un 9000 sono ridotti così male qui sono arrivati quasi dai facciamo ancora che qui poi potrebbe essere ancora la moravia ancora come è possibile che gli hanno i claim sulla moravia mi spiegate come hanno fatto questi cioè così georgian invasion così ah gli posso dare anche la moravia la vera è che sono gentile io con loro andiamo qui con questi qui ci stanno divertendo a disturbarli ok lo abbiamo già fatto mentre quelli sono ancora qui in viaggio perché forza vai per i fioldi vai per i fioldi che ti diverti dai divertiti così per i fioldi io non voglio avere lì questi qua che mi rompo le scatole solamente i dichiaroli no quelli di chiaro questi stanno vengendo appunto per fortuna sono almeno quattro per cento e che hanno i loro domini importanti e qualche guerra e io vado a togliere tutti ora no vai qui tu vai qui non vai a fare questo assedio perché vincerei e non voglio vincere no peccato qui mi ha fatto prendere al panico peccato 7000 uomini e lo ci andiamo con questi lasciamo fare che troviamo quattro che sono troppo veloci per i miei gusti la scozia è 45% qua sono ancora nostri ok facciamo questa quella con tu stati qua la bronia prossima è questa di qua dammi qua proprio tu ci prendiamo anche il fegamento però non voglio che loro vincono la guerra sinceramente perché pure quelli si prendono c'è la morabia a circa 10.000 uomini sono già molto potenti sono già quando sono loro sono 158.000 dobbiamo limitare in qualche modo le loro vittorie che ho dovuto conquistare una rotta riscata vero la scozia apprezzo sarà mia ok 5 facce perché l'hanno liberato qui maledetti devo vedere lo tempo per la scozia vedere lo tempo ma intanto scusate intanto così per sapere questi dettori qua regno e submin che andiamo a creare ora mmm io grandson che figlio suo durante guideschi sarebbe Dante richiede in realtà il vero non di Dante vero no io ho altre figlie av mamma cattolico burri grand title ci pensiamo ci pensiamo dove adesso andiamo a conquistare più in un posto della regione qui da scozia 20 stanno stanno facendo ok andiamo a fare perdere questi di qua così per capriccio non avremmo già vinto avremmo già vinto si qua stiamo perdendo di tanto io vorrei fare una cosa mentre sono in guerra potrei fare guerra a loro per la tessalonica che faccio tutti i punti ciò perdere ora ok e faccio vedere i punti allo scioperte magari lo sono conquistando intanto si enforce demand 99 dove se forza si stanno avendo dei alleati forti con noi perché siamo loro amici vedete come sono un po' prima questi qua che rompe il scato della si si ho proprio passale ok tu va me a capire le ho capito facciamo prima mi sa dove ho perso scusami dove avrei perso so be hit però qui non posso fare più a sedia non ralì allora c'è una cosa se vai qua ci stai quanto ci stai sei mesi mentre tu ci sta 34 giorni vediamo magari così qua no mi stanno aiutando a conquistare no col cavolo la capitale sono alleati l'oro ok che rottura di scatole e torniamo al nord mentre con l'oro andiamo a sud che c'è gli sbigame che almeno sono in guerra con la moravia potrei fare quella andiamo un po' all'oro e mi sprigo così mentre l'impero scandinavo scusa quando ci manca l'impero scandinavo poco 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 almeno 3000 ancora facciamo questo non fare queste 5000 allora change the hero kingdom mark che farlo bravo quindi imparità da pure quello eh tu mi vai a fare il controllo qui manca due steward mettiamo duca di atene o re lota ninja che è il re tu non fa niente mi hai ansia a pisa dalle pisane va bene questa guerra con i mi sta scocciando lo so qui non fanno niente ok la terza armata ok vai a conquistare la scoza su perché non fai conquistare figliolo non c'è un'altra perk divento parriarca va bene hanno liberato la capitale liberato no è sotto no scusami è di che sedio questa no vabbè sto rottore degli harle che si fanno cura fra loro ok tutto ritorna qui mamma mia mamma mia che rotto di scatole sarà tante garnik a rompercelo no fai qui ho qui ed ho occupato ok andiamo qui a fare questa giornata qua cinque giorni ok non sei per cento andiamo a presso anche la capitale and force demand so be it e se ancora contro questi perfetto io lo faccio con cui su tutti editori e se ancora anche contro pure questi dicoli al sud la finlandia ma fatemi vassalizzare va che dite ragazzi fatemi vassalizzare 160 ok dai segniamo soldi ok bronia altra bronia qui se è necessario lavoro lavoro buono ok enforce demand no vabbè dai white piece mentre finlandia sono la finlandia che ha alleati si so so big hit white piece e è pronto a capitale ok continuiamo a conquistare e poi io fanno white piece ok white piece perfetto ok prince da ricky deve morire ok murder ok allora i soldi adesso non ci sono li sbagliamo tutto e vollink perfetto abbiamo molti domini e molti vassalli 25 dai ramsom ok lui ormai è l'ex imperatore che non c'è più lui ormai ha detto che doveva morire va bene non ci interessa altri ramsom facciamo un su 15 5 50 si aumentiamo un po' dei soldini aumentiamo come ho vinto va bene abbiamo due vassalli di troppo allora il sapmin mi sta qui e noi dobbiamo creare molti vassalli questa è la Finlandia scusami Garnic pure qua addirittura la Finlandia è nostra ok mentre l'impero ci manca possiamo creare anche l'impero perfetto quindi aspettiamo un attimo invece da velocissima facciamo tutti i ramsom possibili per farci i soldi facciamo un invito le miro 100 bravo bravo le miro 30 di qua le miro altro 100 facciamo andiamo ora a 3 perché i soldi abbiamo fatti subito meno male li faremo ancora 50 che bello qui 150 è meraviglioso meraviglioso tu accettasi che bello questa cosa e dopo che andiamo a creare appunto l'impero scandinavia e i vai regni e limiti fa diciamo si da sistemare questa regione qui del nord qua altro ramsom un'alleanza con loro accetta o di divorzio non so non interessa tanto rendetela ok Grams 25 non interessa altri 50 non interessa 50 10 10 ok e ok 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 che soldi li abbiamo fatti dai e allora i regni dammi i regni vieni tutto la svezia è nostro stavmi è nostro finlandia è nostra i regni li abbiamo tutti posso andare anche vege e l'andrei a fare abbiamo tutti i regni e poi l'impero di scandinavia create perfetto 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 la scozia controverò tutto questo la scozia dove sta la scozia la scozia sta qui mi vuole male e mi vuole male allora Grant vassa se io do le vassalli tipo gli do questi Grant vassall e poi lasciamo convertire ok questo è tutto Inghilterra e questa Islanda ci manca sono queste Grant vassall mettiamo questo perfetto e anche questo è suo assal quindi lui è a posto ok ho una perk andiamo qui se io diciamo anche diplomatici sarebbe davvero qualcosa di straordinario e qui è tutto fatto con l'ingrenio di Scozia l'ingrenio dell'Irlandia l'ingrenio dell'Gallus ok i regni sono stati creati qui ora qui i garni potremmo anche forse un giorno vassalza mi sa andiamo un poco aspetta no ancora ci vuole tanto però se lasciamo guerra per Dejure per Dejure ci vengono tutti questi lì qua anche questo è pure nostro già subito ok quindi con calma andiamo con molta calma qui sono molte città mia Ducatini ok vai Ducati Gulab creiamo create un po' di soldi aspetta un attimo create ok qua creiamo pure questo questo qua lo creiamo questo c'è non surparlo qua posso fare per poco comunque edividiamo questi Ducati oh Gundam che è molto grande allora questa già è qui vado a studiare però è difficile grosso grosso anche lei la capitale andiamo un po' da capire qual è togli allora qui sono già dei duchi che mi voglio tanto bene ovviamente sono Satru lei c'ha questo terroco qua che non è capitale lui ha questo terroco qua che è la capitale lui serve il capo in teoria grandale vediamo un po' se lo facciamo a renderlo felice con qualche cosa di buona tu ti prendi questo no non voglio io ho tutto questo wait i soldi avrei per fare qualcuno in più allora piegiamo lui right 150 tu 150 sono un po' cari eh però 80 95 ospe ospe oh che c'è di buono no è scomparso è un tempo ben speso ok lui deve morire ci vendiamo un po' di questi ok non sapevo dove scusami andiamo un po' senza nel nord liberty faction e lo ce la fanno loro il panzetto concilio di l'agricorante meno 2 vuoto un posto nel concilio lui è 23 e lui era lì era lui era nel concilio solo che questo panzone si prese il posto io posso trovare il 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 guarda questi come si è messi e allora lui è 15 andiamo a cambiare con questa o qui in bianca assegniamo lei va è proprio una cultura italiana ah qui ok poi e la fazione prego sono un pello di quelli la di cosa altro vorrebbe absolute chronotility offensive war over dominion ah ecco i domini va bene e li sto facendo un attimo un attimo anche tu grant vassar gli diamo anche qua eh no quello non è suo forse è un po' no è tutto suo quindi a te grant vassar gli diamo anche questo uno grant vassar ok lasciamo in posto sennò la guerra scopperà ed è my conversation 5-2-100 ok poi l'altro ducato è questo di qua e ci sono qui delle un po' qui non c'è sono tutti i miei ok c'è kita zombio ok no la capitale è questa guarnito ecco ammedeo tu che sei anche 16 se non sei male 2-3 dai eh perfetto sono già 18 allora poi altre città che abbiamo così qua da una parte del ducato molto grande perfetto questo è la capitale grant vassarò è suo figlio è sorede ma lui non è niente no 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 allora grant vassarò no filippo no gastone di urbino un po' gastone dimmi se è suo figlio e sorede gian leone egno ah non lo è steward perfetto quindi vediamo questi titoli qua è il ducato dove sta perfetto io ho dato quello sbagliato va bene eh grant tu eeeh guarda adone castrani livio che è suo figlio e non ha niente ok grant title allivio l'ocento è molto ricco perfetto così qui è il duca di holkstad che c'ha questo asato che è già duca di qualcosa questo è contessa e questo è lui per lui no andiamo a lei perché qui mi sembra che è duca se dico domani a Gesù infatti è duca di manna quindi duca di manna quindi a lei grant title il titolo ducale di holgate ok the main conversation e abbiamo ancora una città in più e allora quale città abbiamo in più ah questi qua sempre che è lituania che andiamo a creare e grant tu sempre uno zilus non c'è qualcuno che ok non c'è low noble non ci sono zilus scusami zilus perché stanno nei tratti not ruler e regione ovviamente cristiana e cattolico dire ok no no ok mi sono rimasti fortuna e allora c'è un ecco c'è lui torquato che non è male alla fine torquato mio carissimo ok perfetto questo è un regno di lituania che possiamo creare ma il regno di norvegia l'abbiamo tutti negli domani c'abbiamo stafmi finlandia sveden ok dobbiamo solo scegliere chi dare duca di islanda mh cattolico noveggess potremmo dare magari a lui che c'è tanto fedele c'è stato olga di tempo oplond c'è lei che è giovane andiamo duca di islanda lo facciamo in Italia anche re grant title re di norvegia dove sta re di norvegia nove perfetto è il primo che fa sapmi c'è lui cattolico italiano che in effetti sarebbe anche non non è molto male poi lui è cattolico italiano e marziale buono almeno questo è stato ottimo marziale lui che è a sunro di my conversation devo aspettare ancora e a solo cilinno e lui che invece è cattolico italiano e a buono istruirci grant title chissà mi tiriamo perfetto grant vassal perfetto poi il regno di finlandia cioè noi duca di poemia che non è cattolico il savo non è neanche cattolico allora the main conversation anche se lui è buono the main conversation anche più possibilità di essere da questo costante di buono niente rinascere poemian e poi andiamo a fare il rene di villano ok lui è rifiutato e lui è accettato no c'ho la gotta allora lui allora grant title la finlandia perfetto e qua c'è la svezia la svezia poi cattolica italiana c'è lei qua c'è romagna la frisia no lui è cattolico italiano e qua c'è l'italiano andiamo a lei grant title il regno di darimarca che ora non c'è più la legge penso vabbè facciamo l'elettivo la nota ci interessa più di tanto mentre la svezia allora c'è il duca di bellezanne l'italiano 16 non è male come gestione norland c'è lui che è come è lui cattolico 9 ges di promozia buona ma presco il primo vero lui è cattolico burro meglio lui di promozia e ostgard che ha sarro ed è male in conversation anche se non c'è tra mai che è un po' di promozia però fra lui preferito o smala o best lui come quanto è di 16 però cattolico italiano grant title così da nulla diventa re di svezia perfetto ci sono tolti tutti i vassalli del nord vedete che bello solo re abbiamo qui ok mi sa che questo video sarà diviso in due parti sarà diviso perché per appunto ti pago ok perché non c'è è un uo di video se non è diviso in due parti manca solo una con tema edizione guarda queste sono arrivate Yussain maiezione 153.000 questi ci rompono le scatole ci rompono maiezione e rimane solo Garnik ci può conquistare cioè guarda qui sono mezza mappa sono loro va un terzo dopo sono tutto loro poi caution posso fare un'alleanza dai un matrimonio no è interessato do it ammazzalo ammazziamolo che va un po' questo è diviso in teoria di questo imperio cioè va tutto a lui si piglia tutto si piglia e allora ragazzi allora questo video come detto è diviso in due parti purtroppo non si uscita uccide quell'uomo maiezione ma sarà una guerra difficile per la Tessai ora sono 154.000 noi quando siamo scusami siamo 131.000 dobbiamo essere bene a conquistare fare guai all'oro sarà una bellissima impresa di Juve Land no per niente il ducato di Tessai questo è il prossimo obiettivo a fare se la troviamo ducato di Tessai Sirmia Sirmia dove sta questo è no è presso no Moldavia no e quante cose hanno questi maledetti quante cose hanno queste io neanche riesco a trovare e allora facciamo così creare l'impero romano ancora sarà più difficile ancora più difficile poi se lo creeremo conquistare quello che è il nostro Cerenica no ok qua no ma dovrebbe essere è tutto il ducato dove lo prenderli oppure Tessalonica ecco sono tre città siamo similari non so guardate che non ci sono vabbè lui è il 5.000 è il re di Serbia però non ci sono mai io ando a fare la guerra mettiamo pausa e nel prossimo episodio cercheremo di conquistare questo ducato e quindi puoi creare qui il regno di Tessalonica e infine l'impero romano perché ci manca solo questo l'impero Tessalonica ci manca solo questo io vorrei magari mettere qualcosa qui a Firenze ormai è tardi quello è fatto ma la guerra è fatta e qui me lo cerca magari qualche alleanza qualche alleanza non c'erano più non sono alleati con loro sembra no non sono alleati la guinea è molto ricca la lanza era bellissima a fare ma niente comunque ragazzi questa musica epica come ho messo di oggi con la futura creazione per romano se usami permettendo che guarda cioè come sono espansi tutta la parte occidentale il Mar Rosso quindi Egitto e il Sudan e il Corno d'Africa tutte le penese arabica la zona qui della Persia fino all'India questo è ricreato l'impero di Carlia e San Romano in parte in buonissima parte più tutto il nord della Russia qui avranno anche l'impero russo un po' avranno cioè l'impero russo un po' sarà loro pure ora che cosa ma va bene ragazzi va bene quindi quello che vi so di oggi invito a lasciare un like a commentare e di la vostra se non vi è fatto iscrivetevi al canale e attivate le campanelline c'è le notizie dei video che usciranno e vi ricordo anche se mi su Twitch dove fai live e sui social come Facebook e Instagram così vi presto di più sul mio lavoro tra questo ragazzi al prossimo episodio da Rossini Terry passo e chiudo ciao